Non si fermano i furti nel Cilento e ad Agropoli dove ormai quasi ogni giorno capita un episodio del genere. Questa volta è toccato ad un anziano novantenne residente in via Gentile che nella mattinata del 4 dicembre intorno alle 13 e 30 si è ritrovato legato sulla sedia a rotelle imbavagliato dai malviventi per poi essere derubato di tutto il denaro presente nella sua abitazione. E dopo questa vicenda il timore degli agropolesi fa riaprire la questione della sicurezza in città. A quanto pare ad essersi introdotte nelle abitazioni dell'anziano sarebbero state due o tre persone che una volta entrati, dopo aver insistito per farsi aprire la porta per due volte, avrebbero legato l'anziano alla sedia a rotelle e poi coperto occhi e bocca. I ladri in seguito avrebbero rovistato in tutta la casa riuscendo a rubare la pensione appena ritirata e qualche risparmio per una somma totale superiore ai 4.000 euro. Al momento del furto l'anziano era solo in casa, purtroppo però qualcuno è riuscito ad intervenire solo nel primo pomeriggio, ovvero alcuni ragazzi dell'appartamento sottostante dopo aver sentito del rumore che hanno subito avvisato i vigili urbani di Agropoli. I vigili dopo essere riusciti ad entrare nell'appartamento del novantenne si sono trovati dinnanzi ad una scena difficile da supportare, quell'anziano che cercava in ogni modo di liberarsi. Sono subito stati alertati i carabinieri della locale stazione e i sanitari, dato lo stato di shock in cui si trovava l'anziano che però ha rifiutato di essere sottoposto alle cure mediche. I militari hanno subito fatto partire le indagini e a quanto pare i criminali sarebbero della zona, viste le descrizioni dell'anziano sul loro accento, che sarebbe risultato prettamente locale e pare anche che seguissero la vittima da tempo, visto che lo hanno derubato subito dopo aver ritirato la pensione. Il timore dei cittadini è tanto, anche perché i furti ad Agropoli sono aumentati di molto, visti gli ultimi accadimenti a Moio, Cannetiello e Madonna del Carmine, che hanno colpito anche il consigliere comunale di opposizione Natalino Consolato Caccamo. Agropoli ad oggi non è più una città tranquilla, lamentano diversi residenti. Sempre nella giornata di mercoledì 4 dicembre è anche avvenuta una serie di furti nel vicino paese di Ogliastro Cilento, nella frazione di Eredita, dove sono state derubate tre abitazioni nel tardo pomeriggio.